amici sportivi amici fanta allenatori buongiorno giusto veterano del fanta calcio e dunque una nuova rubrica che mi appassiona tantissimo quella dei commenti alle partite da parte dei giornalisti sportivi in particolare dalla rosia dalla gazza insomma il quotidiano chiave fondamentale per tutti i fanta allenatori che lo è stato nel tempo ora un po' sopravvanzato dai amici di fanta calcio.it ma è inutile e importante anche valutare e sottolineare i commenti che settimanalmente tutti gli amici giornalisti rivestono per appunto i giocatori di Serie A partiamo con Napoli-Inter, partiamo appunto sono quei diciamo così commenti un mix tra umorismo competenza tecnica e saper scrivere in maniera corretta per quanto riguarda appunto il giornalismo sono le cose che mi colpiscono di più. Ho estrapolato alcuni nominativi e mi hanno visto molto interessanti partiamo con Mario Rui definito il peggiore della serata di Napoli-Inter, l'ha preso infatti in pagina la 5 commento rischia di finire senza calzini come Charlie Brown sul monte di lancio Dan Fries lo travolge fin dall'inizio, volata dopo volata e lui non restituisce quasi nulla da un attacco mai una sovrapposizione in segna. Quindi la figura di Charlie Brown, l'eterno sconfitto sono passato le partite di baseball, mi fa venire in mente appunto Mario Rui, figura molto vicina a Charlie Brown cos'è il monte di lancio e dove appunto Charlie Brown spediva le palline di baseball appunto e finivano sempre costantemente fuori dalla mira dei suoi avversari, quindi è importante sottolineare quanto Mario Rui sia stato sfortunato e comunque diciamo così poco avvezzo alla vittoria infatti in questa partita ha preso 5 in pagella nonostante poi il pareggio 1-1 tra Napoli-Inter 5 e mezzo anche per Di Lorenzo, giocatore mi avviso importante, fondamentale per questo Napoli però in questo caso la pagina è impietosa, 5 e mezzo per lui parte bene, dice sfiora il gol con un gran tiro contiene il temuto Persic, poi però il croato cresce e lo subisce sul luogo del delitto al gol di Izeco e questo luogo del delitto è un po' una retrospettiva anche cinematografica mi viene in mente qualche film di Hitchcock e quindi qualche thriller importante, interessante quindi interessante la pagina in questo caso, il giornalista della gazzetta Garlando ha preso in pieno un po' quello che è avvenuto sul luogo del delitto in maniera corretta e puntuale l'uomo copertina è Dan Fries, ha preso 6 e mezzo per la gazzetta, a un certo punto dice è sembrato Dan Fries contro tutti? Se tutta l'Inter si fosse allineata alla sua feroce offensiva sarebbe stata un'altra storia, l'olandese spaisato all'inizio stagione è diventato Mike Conn, quindi il brutto natrocolo che diventa Cigno, questa è la storia di Dan Fries piacevolmente colta dal giornalista della gazzetta, infatti si trasforma in un terzino veramente di tutto rispetto come fu l'ex Inter Mike Conn, devo dire che la partita l'ho seguita con grande affanno, però devo dire che Dan Fries ha mantenuto lucidità dall'inizio alla fine, quindi complimenti all'olandese, ottimo innesto per quanto riguarda la squadra nera azzurra. Il nesto olandese non di tutto rispetto, sempre dell'Inter, si parla di De Vries, 5 peggiora per lui dopo la resa Giroud, ecco quella Ozyman che abbatte, affannato causando il rigore e soffre anche in altre occasioni, momento delicato per un muro di preverare solidità e sta arrivando Salah, perché a breve appunto ci sarà la Coppa dei Campioni contro un fortissimo Liverpool, quindi Inter con un mese di febbraio tosto, non si aspettava così tosto, però in realtà ora arriva Liverpool per tirare via ancora un po' di energie psicofisiche e quindi questa sarà una prova importante per l'olandese che però è in fase di forte, forte calo. Sempre nell'Inter ha preso senza voto Sanchez, però questo è un commento che mi è piaciuto tantissimo, stavolta la magia all'incrocio non gli è riuscita contro la Roma in Coppa Italia, non gli viene, per certe cose serve un minimo di sindacale, di tempo, quindi ripercorriamo il fatto che appunto contro la Roma è riuscito a farlo, questo bellissimo gol non può essere replicato in pochissimo tempo, quindi questa volta il poco tempo a disposizione per Sanchez non è bastato a fare la magia. Parliamo di Singo, parliamo di Torino, Torino che appunto ha perso in casa con Venezia un po' inaspettatamente, Singo prende solamente 6, prova un paio di sgasate, ma gli prendono subito le misure, questo commento mi fa sempre molto ridere, mi viene in mente appunto qualche partenza al moto mondiale di MotoGP. Di tutto rispetto invece il voto di Haps ha preso 6,5, quanti gol avrà fatto in carriera si domandano i giornalisti della Gazzetta, pochini, di sicuro questo è il più prezioso, veramente interessante questo commento per il forte laterale veneziano, mentre prende 5,5 qui Zans ancora non riesce a mostrare la sua qualità, punto, leggerino, punto, è un commento che mi fa sempre abbastanza sorridere. Troppo Lazio per questo Bologna, Lazio con 7 Luis Alberto, un altro assist da Mago, ispira la manovra, peccato per il giallo che gli costarà la squadifica e quindi qua riprendono il tema della magia, il tema del suo soprannome Mago che in effetti sta ultimamente dimostrando in maniera forte, 6,5 invece per Milinkovic, più di lotta che di governo, Skorupski gli nega il gol nel primo tempo e qua si fa un paragone quasi politico per dire appunto che c'è il partito di lotta di governo, in questo caso Milinkovic è stato più di lotta che di governo però è un giocatore veramente troppo troppo interessante sia per il fantacalcio sia ovviamente per il calcio. Chiudiamo quest'analisi un po' semiserie di fatto del fantacalcio e anche del calcio, chiudiamo col Bologna, Skorupski 5,5 è anche il voto più alto, praticamente assiste alle voragini lasciate dei suoi, due pezze le mette sul retropassaggio e su Milinkovic, quindi qua devo dire che la difesa del Bologna è stata veramente orrenda in certi casi, infatti ha preso tutta insufficienza per 5 il suo Somarò, 5,5 Bonifazi, 5,5 Mederi, 5,5 Teatre, 5,5 Ikei, quindi nessuno si salva, ma Skorupski è stato il migliore nonostante appunto l'insufficienza, prende 5,5 ma una pagella nella quale di fatto ha poco colpa, mentre 5,5 Orsolini sprinta, cerca qualcosa, tira e sgomita, punto, ma zero titoli, punto. Anche in questo caso è una pagella di fatto con poche parole, però comunque molto significativi della prestazione del Bologna, che di fatto è andato a perdere 3-0 contro la Lazio. E Bologna che è un po' anche l'ago della bilancia, della vetta del campionato, perché appunto manca il recupero di Bologna e Inter, se appunto l'Inter dovesse vincere tornerebbe virtualmente in testa, però nel frattempo c'è il Milan in testa e quindi questa cosa un po' a livello psicologico incide parecchio. Un bel Milan, bello quadrato, Magnan assist superlativo, uno dei pochi assist da portiere, però veramente un po' tirato per i capelli, ma comunque meritato per la stagione che sta avendo appunto Mike Magnan, che sì c'è un po' di polemica tra i tifosi del Milan, giustamente perché non vuole rinnovare, quindi il tifo prende la sua posizione come lo fece l'anno scorso con Donnarumma. Questa rubrica mi è nel corso degli anni sempre piaciuta, quella dei commenti alle pagialle soprattutto della Gazzetta. Piace molto, spero che vi possa piacere anche a voi, leggetemi tanto i commenti perché chiaramente ultimamente stiamo un po' perdendo questa qualità, nel senso che ci concentriamo solamente sul voto, non tanto sulla qualità della partita, però ci sono anche differenze sostanziali perché ad esempio De Ligt ha preso 7,5, mentre appunto per quanto riguarda la Gazzetta, mentre per quanto riguarda il Fantagaccio.it ha preso 6,5, quindi le differenze di un punto sono anche sostanziali e per questo motivo è importante capire che ci sono delle valutazioni nettamente diverse, quindi è utile e importante leggersi la valutazione, noi personalmente utilizziamo la relazione di voti Italia appunto che è una media tra le tre relazioni e più o meno la media ci può anche stare, però a differenza di un punto sono anche significative. In questo caso appunto abbiamo fatto l'analisi dei match di sabato, mentre appunto le partite di venerdì e sabato, mentre le partite di domenica, scusate di sabato perché venerdì non si è giocato, mentre le partite di domenica e di lunedì ancora non le abbiamo fatte, le faremo appunto appena avremo materiale composto e quadrato su tutto. Vi ricordo di mettere like a questo video, grazie di cuore appunto a chi vorrà farlo, io vi auguro una buona giornata, buon Fantagaccio a tutti e a presto dal veterano. Ciao ragazzi!